Ecco qua la lezione, se tutti gli italiani nell'avosto del 22, 9, 43, 45 avessero fatto quello che fecero quelli dell'oltre corrette noi ci saremmo risparmiati vent'anni di fascismo adesso come la mettevo? Non avevo dato l'ascolto a queste lezioni qua ci siamo dimenticati le storie nostre, adesso con questi come la mettevo? perché qua è tardi, eh? Qua è tardi, 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 è troppo tardi ecco, lo so che è una rottura dei coglioni, però ha voglia cantar bella ciao Agosto del 22, l'Italia è una stella è passata, è passata per le armi, dai fascisti in casa per casa so come la peste vera, negli anni d'assassino ma sono dei padroni, agli occhi di più soli ma la parma non si passa, parma è un'altra storia si sentono rettolente, solo un guido, ho anche la gloria in difference per la famiglia. alle cantine a te Rotato bianco a bianco quando faccia in camminanti e il popolo gli arditi anarchici e compagni da cinque giorni e cinque notti dalle cantine a te in curiata rivolta si combatte venti stretti ma la parma non si passa parma un'altra storia si sentono tre tormenti solo un grido morte e gloria mi efficacia Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!